Com'è andata, come sta andando questa stagione visto che siamo a fine luglio? Siamo contentissimi dell'andamento della stagione, più o meno come gli anni scorsi. Poi in particolare questa settimana siamo pienissimi, addirittura abbiamo dovuto in qualche maniera siamo in overbooking, quindi abbiamo dovuto in qualche maniera mandar via della gente. Non abbiamo potuto soddisfare tutti i clienti che erano così propensi a venire da noi. Noi abbiamo aperto il 28 maggio, le prime due settimane siamo stati abbastanza un lavoro lento, abbiamo avuto un evento dove abbiamo ospitato diverse persone, però poi dopo la stagione vera è iniziata verso la terza settimana di giugno ed è andata in crescendo fino ad oggi, ma andrà in crescendo, andrà molto bene fino alla fine della stagione, fino alla chiusura praticamente. Noi chiudiamo l'11 di settembre. Rispetto agli altri anni stiamo notando un calo, soprattutto durante la settimana, e per cui questo insomma ci lascia un po' pensare come mai questo calo a livello di presenze, anche locali, sinceramente non lo so. La clientela è più o meno sempre quella, si lavora nei fini di settimana di più. Diciamo, viene a mancare quel turista che prima affittava la casa per un mese, adesso affitterà per una settimana, 15 giorni, non di più. Ecco, per quanto riguarda i prezzi, sicuramente c'è stato anche un aumento qui. Un aumento degli affitti, sì, è notevole. E dei prodotti alimentari? Ma prodotti alimentari non penso proprio, anzi, forse un po' di chettino di meno. Alcuni prodotti che si vendono a marina è come se si vendesse al paese, diciamo, nelle grandi città.